Siamo tutti di fronte a una grande sfida, ma tutti insieme con grande forza, coraggio e determinazione possiamo vincere questa battaglia e rialzarci più forti di prima. Presto torneremo alle nostre avventure quotidiane, alle nostre escursioni nella natura selvaggia e correremo di nuovo in cima al mondo per raggiungere i nostri obiettivi. Ritorneremo a prendere un volo per scoprire nuovi angoli del mondo, guarderemo con rinnovato spirito alla bellezza che prospera intorno a noi e ci abbracceremo vittoriosi alla fine dell'ultima battaglia. Siamo il Team Garment. Siamo il governo, e speriamo il governo.